Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Salvini porta Saviano un'altra volta in tribunale. E lui così dice il capo della Lega, altre offese e altra querela, no? Altro giro, altra giostra, altra giro, altra corsa. Bene, Matteo Salvini finalmente, ma questo lo fa già da un po', ha smesso di mandare bacioni e manda querele. Bravo, 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 bravo. Vi ricordate che tanto tempo fa, come tre, quattro anni fa, gliene dicevano di tutti i colori perché tanto sapevano che lui mandava solo bacioni. No, ve lo ricordate? Bacioni, siediti sul divano, beviti un tè. Oggi invece manda querele. E fa bene, io glielo ho sempre detto tramite i miei video. Querela. Prendi esempio da Renzi, che quando vince le cause dice che si paga il mutuo della casa. Querela. Soprattutto persone che non criticano, attenzione, ma insultano, calunniano, offendono, parolacce, calunnie, cose inventate, crimini che non esistono. Ecco, così dice, per il signor Saviano, dice Salvini, io sarei il ministro della malavita. Altro insulto, altro odio, altra querela. Lo scrittore aveva nuovamente definito Salvini ministro della malavita e aveva criticato le sue parole sulla candidatura dell'attivista Carola all'Europeo. Peccato però che lo stesso Saviano sia già a processo per aver insultato il vicepremier, poi a processo per aver insultato la Meloni, e ora ha un altro processo per aver insultato Matteo Salvini. Sì, Saviano, lei potrà avere tutti i soldi del mondo, uno scrittore con un best seller da 15 milioni di copie, immaginate le sue provisioni quante sono e le continua a vendere, non è che ha finito di venderle, continua a venderle, continua a scrivere e ha altri libri. Quindi Roberto Saviano è un milionario, uno scrittore milionario, che da adesso in poi passerà spesso il tempo tra avvocati, processi, e quando perderà le cause sarà contento lui di pagare multe, avvocati, della parte lesa, i suoi. Se lui è contento così, se lui intende l'avere i soldi, cioè la possibilità di pagare per insultare le persone, perché alla fine è questo. Io ho i soldi, io ti insulto, mi fanno pagare, io pago e poi ti insulto ancora. Però Saviano non ha forse messo ben a fuoco che nella giustizia italiana alcune cose portano anche alla reclusione. Eh sì, la diffamazione a mezzo stampa in Italia è punita anche con la reclusione. Ecco, insomma, capite che non è solo pagare, sono ricco e pago, insulto e pago. No, e qui c'è anche poi la reclusione, vedremo le cause che cosa porteranno, vedremo. E poi, nei prossimi video, vi parlerò anche di un altro aspetto televisivo di Saviano. Naturalmente non ha solo detto a Salvini che è il ministro della malavita, ma ha anche detto che dice menzogne, che dice bugie. Pertanto ci sono diverse, bisogna capire poi se il giudice come malavita che cosa va a intendere, perché se voi ci pensate, malavita, che vuol dire malavita? Sì, come malavita, la malavita si intende quelle persone che fanno la malavita, cioè che sono dei criminali, quindi che non fanno una vita onesta ma disonesta, quindi malavita, la malavita organizzata, la malavita, malavita, malavita. Quindi lui definire il ministro della malavita, in realtà, è come dire il ministro della criminalità, però in senso generale. non sta dicendo della mafia, non sta dicendo il ministro della mafia, dell'andrangheta, ministro della malavita. Bisogna vedere anche il giudice che cosa va a interpretare, perché ultimamente abbiamo visto delle sentenze abbastanza curiose, come vi dicevo sempre in questi giorni, alcuni giudici in queste settimane hanno assolto delle persone che insultavano dei politici, dicendo che l'insulto, insomma, oggi l'insulto non è più l'insulto di ieri. Oggi il livello medio della gente è molto basso, quindi oggi la critica diventa l'insulto. Se uno ti dice una parolaccia, quella parolaccia è come se fosse una lunga critica articolata, scritta bene grammaticalmente. dice beh, oggi le persone non è che stanno lì troppo a fare discorsi, ti dicono l'offesa e quella è la loro critica. Ecco, quindi oggi non sappiamo neanche più se questi processi per insulti vadano a finire come dovrebbero, cioè con la condanna dell'insultatore. Oggi è tutto campato per aria, realmente. Trovi il giudice che ti dice ma vami che è un'offesa quella, mi avete fatto anche perdere tempo allo Stato, alla giustizia, soldi. Queste qui non sono offese. Cosa vuol dire ministro della malavita? È una cosa buttata lì? Ecco, quindi potrebbe trovare il giudice che dice così o il giudice che dice adesso paghi 10.000 di multa e li dai a Salvini, in più paghi gli avvocati di Salvini e ti paghi i tuoi. E così il conto diventa abbastanza alto. Ecco, bisogna vedere perché la legge dovrebbe essere uguale per tutti, però abbiamo scoperto che la legge è interpretabile. Insomma, dipende da come interpreti il fatto, l'insulto. Insulto non è insulto sempre e comunque. Ci sono tutte delle interpretazioni, magari non lo è, la condizione. Ecco, pertanto vedremo quello che succede, vi terrò informati anche perché queste denunce vanno per le lunghe. A volte ci vuole 3-4 anni. Guardate, questa denuncia che sta facendo Salvini oggi, magari ne parleremo nel 2027. Nel 2023 Saviano aveva insultato, il giudice ha detto, ma va, non è insulto. Ecco, fra 4 anni vedremo quello che succede. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci e grazie. Ricordatevi, Teleitalia, seconda rete. Arrivederci a tutti.